Il segretario di Stato statunitense John Kerry interviene a tutto campo sullo scenario di crisi medio orientale. Parlando da Madrin nel corso di una visita ufficiale in Spagna, il capo della diplomazia statunitense ha chiesto la fine delle violenze israelo-palestinesi, aggiungendo comunque che Israele ha il diritto di proteggere se stesso. Kerry ha inoltre confermato che nei prossimi giorni incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen. Vogliamo che torni la calma e vogliamo che le violenze cessino e ritengo che tutti in Israele e nella regione vogliono che questo si verifichi quanto prima. Israele ha il diritto inalienabile di proteggere i suoi cittadini anche nel caso di atti di violenza in consulti. Il segretario di Stato statunitense ha poi dichiarato che Washington vuole ad ogni costo evitare una distruzione totale della Siria. Il presidente Obama è stato molto chiaro sul fatto che sente che si assume la responsabilità del nostro governo per tentare di evitare una completa e totale distruzione della Siria e tutte le negative conseguenze che ciò potrebbe comportare. La soluzione del conflitto in Siria deve contribuire anche a risolvere la drammatica situazione dei flussi migratori diretti in Europa e a questo proposito Kerry ha confermato l'ipotesi ventilata ieri a Parigi di una riunione nei prossimi giorni con i ministri russo, saudita e turco per discutere la questione. L'incontro sulla Siria del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov con Kerry e gli omologhi rappresentanti dell'Arabia Saudita e della Turchia potrebbe tenersi presto a Vienna, secondo quanto fatto trapelare da fonti diplomatiche russe.